Di tumore si continua a morire, ai funerali si accompagnano tante bare che nascondono ancora molti dubbi sulle cause e altri aspetti di queste devastanti patologie. Da quasi 20 anni associazioni e comitati si battono per chiedere l'attivazione di un apposito registro che possa contenere dati e informazioni indispensabili. Nel tempo hanno assistito con sdegno solo a rinvie e silenzi che fanno riflettere ma non hanno fatto arrendere chi continua a ribadire l'urgenza di uno strumento che va scritto con i cittadini e non sui cittadini. A Termoli, la fondazione Lorenzo Milani, il presidio di Libera Molise e quasi 20 associazioni hanno inviato una lettera al governatore Paolo Frattura per chiedere una svolta definitiva sul registro. Il registro dei tumori teoricamente è proprio in partenza ma ci sono delle criticità, ci sono ancora dei ritardi come abbiamo visto dagli ultimi documenti che l'assessore all'ambiente Facciolla ci ha gentilmente fatto avere, mancano ancora la conoscenza del software piuttosto complicato da usare per raccogliere i dati, ci sono ancora problemi di formazione del personale, quindi noi chiediamo che venga fatto partire immediatamente perché sono 19 anni che viene chiesta in Molise. In tanti hanno partecipato all'incontro organizzato all'Officina Solare, cittadini che vogliono partecipare come filtro informativo per uno strumento come registro che non resti chiuso nei cassetti. Da qui è nata anche la richiesta di un comitato di controllo necessario per interagire insieme a chi sta lavorando sul progetto e le modalità di raccolta dei dati, esperti e professionisti che informino in maniera puntuale la cittadinanza e la rendano sempre più parte attiva. Riteniamo che dopo 19 anni di silenzi, di spalle girate dall'altra parte, di cattiva volontà della politica, adesso veramente si riconosca ai cittadini il ruolo essenziale che hanno avuto, se finalmente questo registro partirà è merito nostro.